signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale negli ultimi mesi abbiamo parlato molto di esplorazione del mondo di gioco sandbox e abbiamo anche parlato di mega dungeon e visto come sia praticamente un mondo di gioco separato mentre parlavamo di mega dungeon però è successo più volte che io dicessi di prevedere sempre entrate e uscite multiple perché questo avrebbe favorito l'esplorazione ora non volevo perdere tempo andando a addentrarmi in aspetti tecnici e la progettazione del dungeon in quei video perché in realtà parlavano d'altro ma è arrivato il momento di ritornare indietro e andare a parlare di una cosa che in realtà è molto importante nella progettazione di mega dungeon comunque dungeon di grandi dimensioni ma che molto spesso i master magari utilizzano ma in maniera inconscia sto parlando come avete visto al titolo della progettazione di dungeon non lineari da questa settimana e probabilmente per altre due o tre settimane a venire quindi andremo a vedere che cos'è un dungeon non lineare e perché utilizzarlo quando si vuole creare un dungeon di grandi dimensioni finora quando abbiamo parlato di dungeon si è sempre dato per scontato che ci stessimo riferendo al classico dungeon o quello che viene tecnicamente definito come dungeon a struttura lineare in parole povere abbiamo sempre dato per scontato che il dungeon avesse un inizio il famoso ingresso del dungeon un suo percorso grosso modo obbligato che potrebbe anche prevedere che ci siano più percorsi che i personaggi possano intraprendere ma che grossomodo tutti questi percorsi siano facilmente prevedibili per il master e portino poi a una stanza finale in cui i giocatori affronteranno il signore del dungeon troveranno il tesoro o comunque porteranno a termine l'obiettivo per cui sono effettivamente entrati lì dentro per la maggior parte delle esperienze di dungeon che devono essere inserite da in una quest questa è probabilmente la struttura migliore più diretta permette ai giocatori di avere la loro impressione di esplorare l'ambiente pericoloso del dungeon e permette al master di avere un ragionevole controllo su quello che sarà poi il railroad dell'avventura all'interno del dungeon stesso di tutto questo abbiamo già parlato nei primi video proprio del canale vi lascio qua su il link se dovete andarli a recuperare ma diciamo che diamo da ora in poi per scontato che tutti sappiano come si lavora a livello di dungeon questo tipo di struttura la struttura lineare appunto è ottima quando il dungeon viene inserito all'interno della quest come mezzo per raggiungere un fine i giocatori devono andare dentro il dungeon per sconfiggere il cattivo prendere l'oggetto magico prendere il tesoro o comunque ottenere qualcosa che si trovi sul fondo del dungeon l'esplorazione del dungeon con le sue insidie darà loro l'impressione di esserci guadagnati la ricompensa finale e quindi avrà luogo la catarsi quello che però a questo tipo di strutture manca in realtà è proprio l'esplorazione vera e propria non solo la sua impressione sicuramente una volta all'interno del dungeon i giocatori potranno scegliere qual è il percorso che vogliono fare e il dungeon al suo interno potrebbe prevedere anche varie aree che possono essere raggiunte nell'ordine che i giocatori preferiscono ma nella pratica non si tratta di una vera e propria esplorazione ma più che altro di scegliere da una serie di percorsi già previsti qual è quello che i giocatori vogliono fare o quale vogliono fare per primi ma per quanto riguarda lo schema della campagna che loro decidano di sconfiggere prima il boss nella stanza di destra e poi quello nella stanza di sinistra o viceversa è relativamente indifferente badate bene che questo non è un problema anzi in una campagna che si basi su una trama lineare che abbia un obiettivo che i giocatori devono portare a termine nell'arco narrativo della campagna sono cose ottime una volta che il party è entrato nel dungeon il master potrà regionevolmente prevedere quale sarà la loro esperienza e avrà grosso modo la sicurezza di tutto quello che loro scopriranno guadagneranno comunque una volta che i giocatori sono entrati nel dungeon il master potrà dare per scontato che tutto il dungeon verrà fatto e quindi può cominciare a lavorare sul seguito su quello che verrà dopo il dungeon in campagna con la sicurezza che tutto il dungeon verrà sicuramente concluso se però lo scopo della quest è l'esplorazione vera e propria questo tipo di struttura diventa estremamente limitante perché nessuna delle scelte significative che il party può fare all'interno di un dungeon lineare avrà effettivamente a che fare con la sua esplorazione ed è qui quindi che entra in gioco la creazione di dungeon di dimensioni notevoli che non necessariamente debbano essere mega dungeon ma se bisogna farli esplorare i giocatori qualcosa che meriti di essere esplorato bisogna darglielo comunque dungeon che abbiano una struttura non lineare quando parliamo di un dungeon con una struttura non lineare intendiamo che non è prevista una singola via preferenziale per accedere all'area finale o per percorrere l'interno del dungeon il party dei giocatori potrà entrare da dove preferisce e una volta all'interno dovrà effettivamente esplorare varie aree del dungeon per trovare il luogo che gli interessa senza che sia loro chiaro quale sia il migliore dei percorsi possibili ammettendo che un percorso del genere esista come ho detto le dimensioni devono comunque essere tali da giustificare tutto questo se stiamo parlando di un dungeon fatto da sei stanze in tutto queste sei stanze possono essere connesse nella maniera più complicata possibile ma in realtà l'esplorazione che i pg potranno fare all'interno sarebbe comunque talmente limitata da rendere un dungeon di sei stanze non lineare un inutile spreco di tempo alla parte del master la struttura diventerebbe incredibilmente complessa ma senza avere alcun effettivo ricavo per il party incidentalmente anche se non è effettivamente il motivo per cui ci si approccia la progettazione non lineare una progettazione non lineare può anche aumentare la verosimiglianza di una struttura in notevoli dimensioni se ci pensate anche nella realtà un palazzo molto grosso non ha un unico portone ma probabilmente vari accessi lungo il perimetro pensati appunto per rendere più facile girare al suo interno per le persone che effettivamente lì dentro ci devono abitare o lavorare ovviamente quando lavorate su un dungeon non lineare dovete sempre tenere a mente che la sua non linearità non si riferisce semplicemente agli accessi alla struttura ma anche ai vari accessi alle varie aree al suo interno progettare un dungeon che abbia due entrate ma che sia semplicemente un lungo corridoio su cui si aprono le porte di vari altri dungeon strettamente lineari non lo rende una struttura non lineare al massimo lo rende una struttura lineare ma particolarmente complessa abbiamo detto che sicuramente sarà una struttura di grandi dimensioni e quindi per facilità di lavorazione di orientamento sarà meglio dividerla in aree cominciamo quindi a pensare come queste aree andranno a collegarsi l'una con l'altra per prima cosa evitate di creare strutture che si ripetano geometricamente o che siano uguali le une con le altre ogni zona dovrebbe avere un suo layout specifico in modo che i giocatori anche dopo aver esplorato interamente un blocco non lo possano utilizzare come riferimento per avere la mappa dell'intera struttura e fate anche in modo che ogni area abbia molteplici accessi che la connettono con le altre non necessariamente con tutte le altre ma ogni volta che i giocatori arrivano davanti a una porta dovrebbero avere il dubbio se quella porta li condurrà in una nuova zona o meno fate attenzione che questo discorso vale anche e soprattutto per i vari piani in cui il dungeon è diviso per quanto un piano del dungeon possa avere varie aree e una struttura complessa se ogni livello del dungeon ha semplicemente un accesso e un'uscita il tutto tornerà a essere una struttura lineare in cui i giocatori scendono le scale e poi possono esplorare come preferiscono l'intera zona ma tanto l'unica cosa che possono fare è poi uscire da un punto specifico dall'altra parte questo ovviamente non vuol dire che all'interno del mega dungeon non ci possano essere specifiche aree che abbiano una struttura più lineare però fate sempre attenzione che queste aree siano chiuse all'interno di aree più vaste e che quindi possano essere raggiunte indipendentemente dalla posizione dei giocatori semplicemente esplorando in giro prima di concludere vedremo poi di approfondire nei prossimi video quali sono i dettagli della creazione ma voglio sfatare un mito che ho sentito in giro appunto parlando di progettazione non lineare del dungeon cioè che rendere in gioco strutture del genere diventa talmente complesso da essere un enorme lavoro a parte del master allunga notevolmente i tempi ma che poi tanto nella pratica non è gestibile a livello di sessione e quindi sarebbe da evitarsi perché diventa del tutto inutile allora sì da una parte è vero normalmente la progettazione di un dungeon non lineare richiede molto più tempo rispetto a quella di un dungeon non lineare però intanto bisogna fare un distinguo ho detto più volte in questo video i dungeon non lineari sono o mega dungeon o comunque dungeon effettivamente molto grossi va da sé che progettare un dungeon molto grosso richieda più tempo che progettare un dungeon molto piccolo se in una quest dovete inserire un dungeon che abbia 30 stanze e preveda 20 incontri tra mosti e trappole dovrete preparare molto più materiale che se preparate un dungeon di tre stanze di cui due contengono un incontro ed è anche vero che se voi cercaste di prevedere ogni possibile percorso che i giocatori possano fare all'interno del dungeon non lineare e cercherete di piazzare gli incontri in base a questi possibili percorsi il ragionamento anche solo il lavoro di pianificazione che dovrete fare renderà l'esperienza effettivamente molto lunga questo approccio però è palesemente errato proprio perché il dungeon non lineare non è pensato per dare ai giocatori un percorso che loro debbano seguire in linea di massima quando progettate il vostro dungeon non lineare quello che dovreste fare è creare l'ambiente di gioco vedremo poi nel dettaglio nei prossimi video come procedere a questo comunque e una volta che avete la mappa del dungeon comunque la divisione in aree del mega dungeon ragionare più che altro su come sarebbe conveniente per gli abitanti del mega dungeon disporsi per svolgere le loro attività quotidiane anche di questo abbiamo già parlato precedentemente in altri video ma non andare a pensare quale sarà la quest che i giocatori dovranno farci dentro quella in questo caso trattandosi comunque di una variante del sandbox non sarà un vostro problema sarà un problema dei giocatori creare la loro avventura all'interno del dungeon di conseguenza si creare un dungeon non lineare richiede più tempo ma non perché sia non lineare semplicemente perché siano le sue dimensioni ma riduce anche il tempo perché in realtà tutto il tempo che dovesse preparato per rendere entusiasmante l'avventura non dovrà esserci dedicato perché quello sarà compito dei giocatori adesso sta solo poi a vedere come creare l'ambiente nel dettaglio ma come ho detto ne parleremo nelle prossime settimane per questo video invece tutto adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto se voi utilizzate strutture i dungeon non lineari se le utilizzate quali problemi vi hanno risolto e quali problemi vi hanno causato questo serve a tutti quelli che passano da qua per farsi un'idea di quanto sia alla loro portata a mettersi a realizzare dungeon così complessi relativamente a breve probabilmente entro la fine del mese se non del mese prossimo dovremmo avere anche concluso l'argomento mega dungeon e esplorazione quindi scrivetemi se avete qualcosa di cui non abbiamo ancora parlato nello specifico che volete sentire trattata o se avete proposte su quello che dovrà venire trattato dopo al canale oramai sono sei anni di canale sto cominciando a perdere anch'io il senso di che cosa abbia fatto non abbia fatto e ovviamente se avete domande dubbi perplessità scrivete anche quelli tutto nei commenti qui sotto come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che potrà crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella per ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il link al server di discord al gruppo i telegram dove metto io i video manualmente quindi siete sicuri di non perderveli per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo al prossimo video